Presentazione eccezionale di Sissi, la fiction con Cristiana Capotondi e David Roth, firmata da Xaver Schwarzenberger in onda su Rayuno in prima serata, domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzo, a Palazzo Taverna, uno dei più prestigiosi di Roma, con tanto di scalone e con tappeto rosso adatto appunto alla presentazione di un'imperatrice. Arrivati al primo piano, ecco alcuni dei 700 costumi, di cui 50 solo per Sissi, uno più bello e raffinato dell'altro, le visitazioni in chiave moderna della moda di allora, tutti realizzati con pregiate stoffe italiane. Splendido poi l'abito da sposa di Elisabetta di Baviera, per cui è stata creata una sottogonna con oltre 80 metri di tulle. In quanto le location necessarie per ricreare la lussuosa atmosfera di Vienna imperiale, fine 800 e primi 900, le riprese sono state ambientate in luoghi storici, come l'Hofburg di Vienna, il castello e i giardini di Schönbrunn e quelli di Ecstaso della bassa Austria, quello Brunsa e dell'Asteria e quello di Miramare a Trieste, oltre a numerose location veneziane che hanno dato una mano all'autore delle musiche Pino Donaggio per esprimersi al meglio, ma adesso lasciamo parlare le immagini e che il sogno di Sissi imperatrice, sedicenne, cominci. Sissi! 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 Bravo! Sissi! Bravo! Sissi, rispondi! Non ascoltare! Oh! Vai! 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 Sissi! Sissi! Ora che ti stiamo cercando! Sia Sofia ha scritto! L'imperatore vuole vedermi! Franz vuole vedere me! Oh, nene, sono così felice per te! Io sono incitata invece, non so che abito a indossare! Ma non importa, qualsiasi cosa metterai, sarei sicuramente bella! Basta ora, ve lo dico per l'ultima volta, se continuate a mettere la testa fuori, arriverete tutte rosse per il disordine! Ve lo dico per te che spero di fare? Come? Come. 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 Sono contento di rivedervi. Ricordo ancora le mie visite da bambino al vostro castello. Sono felice che te le ricordi. Sarai sempre il benvenuto a Posenoff. Franz, certamente ricorderai anche tua cugina Lennè. Sono così felice, Franz. Mi dispiace, ma... Mi ero persa. Sì, sì, sono felice che tu sia riuscita a trovarci. Non mi vuole! Franz non vuole sposarmi! Vuole te! Capisci? Te! iscriviti al nostro canale. Sì, sì, dobbiamo ballare. Ce l'ho messa tutta, ma non so se sono in grado. Guardami solo negli occhi e tutto andrà per il meglio. Ti fidi di me, sì, sì. Come potrei non fidarmi? Ti amo. Ti amo. E' bellissimo essere qui con te. Ma stai tremando? Hai freddo? Vuoi che torniamo indietro? No. Non ho freddo. Forse è l'agitazione. È che non sapevo come sarebbe stato stare sola con te. E com'è? E com'è? È bello. È bellissimo. Quella notte, la felicità era in tutte le cose. Nelle foglie, negli alberi, nel cielo, nelle braccia di Franz che mi stringevano forte. E com'è? Sì, sì.